Ciao, pensavo che fossi un numero 1, ma mi sono sbagliato. Sei solo il numero 1, 2, 3, 4, 5. Peccato che ti seguono in pochi. Dici quello che pensi e pensi quello che dici. Cosa rara. Tribu Rosso Nera, amiche e amici del Marietto, buon pomeriggio e bentornate e bentornate a questo nuovo appuntamento con il vostro Marietto Milanista. Oggi 27 di agosto, voluto cominciare questo video, questo programma, con questa frase che mi è stata scritta ieri da un mio follower, un carissimo follower Riccardo Graziosi, che ti ringrazio, già il nome Graziosi cioè devi essere sicuramente una persona molto molto graziosa in questo senso, perché le bellissime parole che hai scritto, a parte mi hanno riempito molto d'orgoglio e il cuore, è un po' l'ho preso proprio per dare una risposta anche pubblica in un certo senso. Sappiamo che nel mondo del web, nel mondo del calcio soprattutto, è molto più facile nascondersi dietro falsi miti, dietro notizie che poi alla fine non cambiano la vita di nessuno fondamentalmente. Però quando c'è una persona come me, che sempre ha detto ciò che pensa, ciò che sostiene, un dissidente, un negazionista, quello che volete voi, chiaramente alla massa, che normalmente è un greggio di pecore, non piace e non interessa. Quello che interessa è lo scoop, la bomba, le cose che rimangono in superficie. Voi tutti sapete che io ho anche un altro canale, per chi non lo sapesse, per i nuovi iscritti, Planeta Libre TV, dove io parlo di tutte quelle questioni che normalmente non vengono affrontate nel mainstream, proprio perché sono delle verità che scottano alle lobby, che sono proprio quelle lobby che poi la maggior parte sostiene, attraverso proprio, diventando proprio uno zombie, diventando una pecora del greggio che segue la massa. Io, fin da molto giovane, sempre sono stato una persona che è andata controcorrente. E quindi non significa che sono il migliore, che sono il più intelligente, sono semplicemente una persona con molta sensibilità che non si fa impapocchiare alla prima che gli raccontano, soprattutto se queste notizie arrivano da quella scatoletta chiamata televisore che nella maggior parte dei casi, molti lo sanno, sono proprio subvenzionate, sono finanziate da quelle lobby di potere che non vogliono farti sapere la verità e in più quello che fanno è causare quello shock terrorifico a tutti i livelli. Ed è quello che stanno facendo e ci stanno riuscendo, perché purtroppo la maggior parte delle persone, non utilizzando il cervello per ragionare sulle questioni del giorno per giorno, si affidano come se fosse Gesù Cristo ai mass media, o come io chiamo i mezzi di distrazione di massa e di divulgazione delle vere fake news. Quindi ti ringrazio per questa affermazione, come ringrazio tutte le bellissime parole che mi scrivono tutti ormai gli amici follower già da tanto tempo, siete ormai tantissimi, siete tantissimi, perché a parte i 2100 iscritti, che possono sembrare pochi, però realmente chi mi segue sono persone veramente centrate, sono persone molto intelligenti, quindi per me è un bene che ci sia stata anche questa scrematura con il tempo. Detto questo voglio anche avvisarvi che farò un video sorpresa su un personaggio che voi non vi immaginereste neanche, che è praticamente quella persona che veramente è la più potente in questo momento nel calcio tedesco e che si trova dietro le vittorie del Bayern Monaco, è qualcosa di diverso, sarà un video diverso, però non vi immaginate neanche chi c'è dietro. Quindi ve lo lascio così per il prossimo video, che vedo se riesco a caricarlo per stasera, perché veramente è interessante rendersi conto di certe persone che normalmente il web, anche i mezzi di comunicazione ufficiale, non ne parlano normalmente, però io vado sempre a scavare cose che normalmente non si dicono. Quindi iscrizione al canale con campanellina, like di supporto e condivisione, che per me sono una grande benedizione. Ma iniziamo al quinto minuto del video con il nostro caro e amato Milan. Innanzitutto buone notizie, cominciamo con le buone notizie. Sappiamo che Ibra, prima di arrivare al discorso Ibra e di quella cosina particolare che vi ho menzionato anche nel titolo, da Sport Mediaset dicono che per Bayo Coco, oggi sono in botta con le parole, Bakayoko è ormai un ritorno fatto. Il Chelsea ha accettato il prestito con diritto di riscatto, così come sembra la stessa cosa stia passando per Brahim Diaz del Real Madrid. Quindi abbiamo in un colpo solo preso due elementi, uno per il centrocampo e uno per la trequarti, che si muove su tutti i tre reparti, tanto come suggeritori dietro la punta Ibra, che ormai è confermato, manca solo la firma che comunque si dice arriverà questo fine settimana, o può giocare addirittura sugli esterni. Quindi veramente un elemento molto molto interessante. Ma passiamo quindi a questo discorso che viene menzionato dal titolo, su una clausola che ha a che vedere appunto con questo decreto che è uscito in Italia in questo momento, che riguarda un discorso di risparmio proprio sulle tasse da parte del Milan e adesso vi spiego il perché. Adesso vi spiego il perché perché è un discorso un poco complesso, quindi ci arriviamo attraverso un piccolo ragionamento. Allora, innanzitutto cominciamo dall'inizio. Sul Librabis ormai ci siamo, siamo tutti d'accordo, ci siamo arrivati. L'intesa c'è, quindi dopo giorni di estenuanti, trattative, finalmente Zlatan e il Milan si sono detti sì. Manca la firma ufficiale, faremo un video su questa fumata bianca quando sarà il momento, però la firma arriverà. Una questione ormai che ho detto di fine settimana e questioni giorni. Il campione è ancora a Stoccolma con la sua famiglia, c'è stato oggi un post che abbiamo visto anche in Instagram che si sta rilassando lì in una sauna, che si rilassi per prendere tutte le energie giuste per fare un campionato alla grande che è quello che noi tutti milanisti ci auguriamo. quindi lo stipendio si aggira sui 6 milioni e mezzo netti, per lo meno le fonti dicono questo, con un corposo premio di 500 mila euro per l'eventuale e noi speriamo qualificazione prossimo anno alla Champions League. Ciò vuol dire che sono stati soddisfatte le richieste da una parte e dall'altra e l'accordo però sarà fino a giugno 2021. Soddisfa tutti? Sì, però attenzione a un punto. Diciamo che una mano non secondaria è stata data dal decreto crescita che è stato promulgato dal governo che consentirà tanto al Milan che a Zlatan Ibrahimovic risparmiare sulle tasse. A patto però, e qua c'è la notizia, ascoltate bene, che Zlatan si fermi in Italia per due anni completi. Cosa vuol dire questo? Quindi fino almeno a dicembre 2021. Quindi l'accordo sì che è fino al giugno 2021, però per approfittare di questo decreto deve accettare un ingaggio che arrivi poi fino a dicembre 2021. Cosa significa questo? Questo è ciò che prevede la legge. Che gli ultimi sei mesi, Ibra, quindi come li farà per poter utilizzare questo tipo di decreto? Dirigente o continuerà a fare il calciatore? Vi ricordate che prima di tutto questo tram tram della trattativa, appena era finito il campionato, che cosa vi dicevo? Andatevi a rivedere quel... perché io sono sempre un veggente in queste cose, chissà come mai, poi alla fine i fatti ne hanno ragione. E non so com'è però, è come il discorso di Arnaud, non è che io mi sono dimenticato del discorso di Arnaud, attenzione, però da tempo vi sto dicendo, diamo il tempo allo stadio che si face tutto e Arnaud arriverà, è questione di tempo. Tranquilli. La stessa cosa riguarda Ibra. Con che vi dissi il giorno stesso che aveva firmato il rinnovo per due anni Stefano Pioli? Tin, 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 dissi che anche Zlatan avrebbe firmato per due anni. Vi ricordate? O con un anno ha opzione al secondo. Adesso, con l'avvalersi di questo decreto, questo non è più così un'utopia. Come potete ben vedere, alla fine i fatti mi danno sempre ragione. Detto questo, al vostro marietto milanista vi aspetto a questo appuntamento speciale che vi ho detto in apertura. Iscrizione al canale, like di sostegno e condivisione ai vostri social. Voi sapete che per me è più che una grande benedizione, però fatelo davvero, perché se volete veramente che cresca il canale e che io arrivo un giorno che non mi stufi e dico, vabbè, basta, qua i numeri non ci sono, non si monetizza e niente, eh ragazzi, qua non è che io anch'io ho la mia vita. Quindi è giusto che se voi mi volete bene, fate sì che anche i miei video li fate muovere per i vostri social, per far sì che cresca sempre di più questa onda, per risvegliare sempre più anime rossonere. E dal vostro marietto milanista, sempre col mio cuore rosso nero, è da un po' che non vi canto il mantra. E quindi oggi ve lo ripeto, forza Milan ovunque e comunque. E ci vediamo alla prossima. Ciao!